Ciao, sei pronto a parlare della rabbia? Fai una faccia arrabbiata. Che cos'è la rabbia? La rabbia è un sentimento, è un'emozione O quando qualche persona è scontola con te, tu provi la rabbia Quando qualcuno fa un dispetto cattivissimo a un'altra persona Una cosa che ti fa arrabbiare tantissimo Quando mi arrabbio con il mio frate Quando altre persone si picchiano Che i bambini sono abbandonati Quando non riesco a fare le cose bene Quando il mio cane mi dà i morsi Che non mi ascoltano Che cosa fai quando sei arrabbiato? A volte piango, a volte abbraccio un bacio Certe volte parlo da sola Piango, respiro La stanza è urla Mi tranquillizzo E sento qualche giochino sul telefono Per calmarmi Certe volte respiro Conto fino a dieci E mi calmo Mi rilasso Batto tre volte i piedi E poi faccio un respiro E ritorno a normale Che cosa fanno gli adulti quando si arrabbiano? Cosa fanno gli adulti quando si arrabbiano? Chiedono ai figli Se forse hai rubato il portafogli Gli dicono parralaggi Si picchiano O ti sei preso la borsa e l'hai nascosta Ti sei preso i telecomandoli e l'hai nascosto Fanno di peggio O possono fare molte cose Visto che sono adulti Possono pure spaccare qualche cosa di preziosa Se si arrabbiano possono rompere tante cose Ci sono alcuni che tendono a picchiare i bambini Altri invece che si arrabbiano con le parole Secondo te è utile esprimere la rabbia? Abbastanza Sì Sì Perché se tu la esprimi Dopo ti senti meglio Ti senti come se fosse un'altra persona Togli tutti i pensieri Più che ti fanno arrabbiare La butti fuori Se tu non le esprimi Ti fa stare male Ma male per troppo tempo E altrimenti se uno non si potrebbe scavare La rabbia Rimarrebbe arrabbiato Quando qualcuno tiene la rabbia La deve buttare fuori Altrimenti se la tiene ancora dentro Si sente molto ma molto male Emanuele Gianni Salvatore Aurora Isabella Maria Giovanna Giussi Sofia Zoe Asia Maria Vittoria Mattia Fabiana Clara Luigi Greta Barbadone Alessandro Alessia Federica Dmia Gia Agner hebben Gilgit Alessia Emanuele Dima T Grazie a tutti.